benvenuti a un nuovo appuntamento con lupoqui.it e stiamo registrando questo demo video dalla fotocamera posteriore da 13 megapixel di lubia z11 mini il video è 1080p adesso facciamo un po' di camminata avviciniamoci a queste foglie per vedere come si comporta la fotocamera con oggetti da vicino allontaniamoci andiamo contro luce ed effettuiamo la classica camminata per vedere come si comporta la stabilizzazione in questo caso digitale camminiamo un po' e concludiamo con un classico zoom bene direi che è tutto appuntamento alla recensione ciao